Dottore Mazzullo, lei è il Presidente nazionale della CICAS e ha lanciato un appello in quanto c'è una situazione di crisi per gli ambulanti. Ma parliamo solo di Crotone o di tutta l'Italia? Il fenomeno è in tutta Italia. In Calabria si è verificata una circostanza che mi ha immediatamente portato a fare questo monito alle amministrazioni comunali. Alcune amministrazioni comunali hanno addirittura deciso di sospendere i mercati ambulanti in una situazione di grave crisi economica. Non dimentichiamo che questo è uno dei settori che ha maggiormente vissuto la crisi e per il quale non è stato dato alcun indennezzo. Stiamo parlando di uno Stato che procede in modo strano alla pianificazione delle azioni e le amministrazioni comunali trovano molto più facilità a pensare alle chiusure che non a programmare delle azioni che invece possono essere programmate e che in alcune parti d'Italia vengono fatte regolarmente e non trovano questo disastro economico. Non ci dimentichiamo che gli ambulanti genericamente sono delle attività familiari. Per cui insomma quando tu non hai reddito, non remuneri, non hai l'opportunità di poter portare a casa quello che ti consente di sopravvivere, per far vivere la tua famiglia e evidentemente queste misure oggi diventano drammatiche. È come se poi facessimo un lockdown. D'altronde in questo momento in Italia c'è un lockdown mascherato perché la burocrazia intorno al Green Pass e alle positività è talmente confusa che i vaccinati sono a casa. Questa è la verità. Per cui tu hai la quarantena, i dieci giorni, le aziende non hanno più operai all'interno, i ristoranti sono chiusi perché non ci sono i camerieri, non ci sono i cuochi. Quindi alla fine tu hai creato un lockdown mascherato perché non intendi dare indendenzi. Questo è il problema vero. È un problema vero e dobbiamo dire che credo che lei voglia incontrare le amministrazioni comunali quantomeno della Calabria. Ho dato la mia disponibilità agli incontri. Chiaramente tutti i miei rappresentanti territoriali saranno vigili e quindi ci informeranno di tutte le amministrazioni che intendono percorrere percorsi che non sono nemmeno condivisi con le associazioni di categorie. Questa è una questione che io ho posto anche al Governo. quindi aspetto che sia definito un incontro. Con il Ministero del Sviluppo Economico ne abbiamo discusso, abbiamo mandato la nostra idea e quindi sostanzialmente aspettiamo che ci siano dei segnali positivi e che portano quanto meno alla prudenza, alla cautela e al dubbio. Ormai le nostre amministrazioni comunali hanno perso il principio della cautela, della precauzione e del dubbio. Il dubbio deve far generare nei sindaci l'opportunità di svolgere un'azione che sia comunque garanzia di sopravvivenza. E la sopravvivenza è data dal lavoro perché queste attività, come tutte le piccole e medie attività, non hanno stipendio.